C'è un conclave per battere questo piazzato, c'è Maio, c'è Ciave, c'è Tropea, potrebbe essere proprio quest'ultimo. Barriera a quattro, parte Tropea col destro basso, Fantuz due volte, paratissima qui di Fantuz. Se l'è un po' mangiato mormile questo, ma il secondo riflesso di Fantuz, già la prima non era facile. E adesso occhio alla possibilità di contropiede, Sergi che perde per un attimo il contrasto, Fichera prova ad andarsene, trattiene la maglia, Sergi è qui, giallo matematico.